Nel pomeriggio del 5 ottobre i carabinieri di Girifalco hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari a carico di un 27enne del luogo già conosciuto alle forze dell'ordine. Il provvedimento è seguito da attività di indagine scaturite per il tanneggiamento a seguito di incendio di un'autovettura avvenuto a Girifalco nel mese di agosto. Aveva in casa 84 grammi di cannabis indica e seccata, un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento. Una sessantenne è stata arrestata dal personale del commissariato di pubblica sicurezza di Taurianova in flagranza di reato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga è stata trovata a seguito di una perquisizione svolta con l'ausilio di alcuni cani poliziotto che successivamente hanno attirato l'attenzione dei conduttori e degli altri agenti verso un edificio abbandonato vicino all'abitazione della donna. Tra i 36 arrestati nell'operazione sul traffico di droga che transitava dal porto di Gioia Tauro è stato arrestato Franco Barbaro di 46 anni, detto Colosso, figlio del vostro osario, detto Rossi, ritenuto al vertice dell'omonima Cosca di Pratì, che si era nascosto all'interno di un bunker dove è stato arrestato dalla Guardia di Finanza e dai carabinieri dello squadrone riportato a cacciatori. Al momento del blitz la Guardia di Finanza aveva circoscritto l'immobile del comune preaspromontano dove con ogni probabilità si era nascosto l'indagato destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare. Chiesto il supporto specialistico dello squadrone cacciatori dei carabinieri di Vibo Valencia, Barbaro è stato individuato all'interno di un vero e proprio bunker. Nell'ambito dell'operazione coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, il 46enne è accusato di traffico internazionale di droga. L'imprenditore lamettino Francesco Perri, 52enne proprietario del noto centro commerciale Due Mari a Maida, è stato assolto dalle accuse di associazione mafiosa e di tentate lesioni volontarie. La decisione è stata assunta nel corso del processo di Pimmogrado dal Tribunale Collegiale della Città della Piana, presieduto da Angelina Silvestri con la formula di non aver commesso il fatto. Attimi di panico ieri pomeriggio lungo la strada statale 280 dove un uomo ha perso il controllo della propria auto mentre guidava in direzione la mezzaterme. L'incidente si è verificato intorno alle 17.20 all'altezza del comune di Marcellinara e fortunatamente non ha coinvolto altri veicoli. Secondo quanto si prende l'auto avrebbe iniziato a sbandare mentre procedeva sulla carreggiata per poi andare a schiantarsi contro i divisori stradali dopo una serie di testacoda. Immediato l'intervento dei sanitari che dopo un primo soccorso hanno trasportato e malcapitato in ospedale per maggiori accertamenti.